saluto dario maggio ben trovato dario grazie grazie intanto per aver citato questa opportunità devo dire di dario che una persona che conosco già da parecchio tempo infatti la sua concessione anche perché siamo amici ci conosciamo veramente da tantissimo tempo da una vita da qualche anno allora dario dovete sapere che imprenditore di successo agente immobiliare ma grandissimo sportivo perché lui ha sempre amato lo sport in modo particolare grande passione per il rally perché anche pilota di rally insomma ne hai fatte di cotte di crude insomma nella tua vita non ti sei mai fermato un attimo non ti sei mai tirato indietro davanti a niente vero qualche cosa l'ho fatto fatto 16 terghe flori ho fatto maratone ho fatto gare di ciclismo fatto gran fondo sono sempre stato uno che si è divertito sempre praticato lo sport ho sempre cercato di tenermi in forma e forse questo è stato anche una chiave per la mia salvezza il fatto di essermi infatti comunque preparato è stato una grande cosa allora tu sei tranquillo stai facendo il tuo lavoro insomma stai facendo la tua vita e che cosa succede un giorno succede io sono uno dei fortunati che per fortuna è uscito non in ma è uscito dal momento brutto al momento la crisi del col io ho avuto una settimana precedente al colido in cui ho fatto tutti i giorni sport un giorno bici un giorno corso lavorato tranquillamente col distanziamento sociale con mascherina con disinfettante gli appuntamenti col mio lavoro fatti questa è tua figlia questa è questa questa è la mia meravigliosa figlia mio il mio capolavoro e di cui sono follemente innamorato si è orgoglioso di essere suo padre quindi ho lavorato sabato mattina sono andato a correre io abito nella mia meravigliosa serracavallo ho fatto dieci questa è la mia ultima targa florio quella del centenario della targa florio bellissima esperienza dicevo ho fatto dieci chi quasi dieci chilometri corse ero felicissimo perché ho corso a barcarello sono tornato mi sentivo felicissimo domenica sono rimasto a casa e con grande felicità ho cucinato la mia un'altra mia grandissima passione lunedì mattina un po' di influenza quindi niente di che avverto la mia dottoressa che anzi ringrazio la dottoressa fleris e mi dice non ti preoccupare sarà un po' con l'influenza sento mia figlia e mi dice papà vada a farmi il tampone e io ho detto vabbè sai per precauzione prenotane uno anche per me martedì vado a fare il tampone e scopro di essere positivo chiamo e mi dicono chiamo la dottoressa mi dice sei tranquillo la possiamo gestire comodamente a casa da casa quindi io cerco di stare tranquillo cerco di stare sereno il martedì pomeriggio le mie condizioni martedì sera le mie condizioni cominciano a peggiorare notevolmente mercoledì mattina avverto la mia dottoressa e dico che comincia a stare veramente ma veramente male che sintomi avevi dario io ho avuto intanto dolori fortissimi proprio fortissimi alle alle ossa alle gambe come se qualcuno mi rompesse materialmente le proprio le gambe le ossa avevo questo dolore senso ovviamente di vomito febbre alta senso di nausea e non riuscire a stare materialmente in piedi senso di svenimento quindi l'ambulanza per fortuna mi porta a partinico il mercoledì mattina quindi ti hanno portato al centro covid al centro centro covid di partinico dove non smetterò mai di ringraziare tutto lo staff del dottor vincenzo provenzano e da lì si scatena praticamente il tutto io vengo ovviamente presso con l'ossigeno mi viene una crisi cardiaca avevi già problemi anche di respirazione quando mi hanno portato aveva anche già cominciava ad avere problemi seri di respirazione quindi problemi seri di respirazione sono stato circa 10 15 ore come giusto che sia prima al pronto soccorso poi nella zona grigia nella stanza grigia che è una stanza dove cominciano a farti tutti i tipi di esami e cominciano a darti tutti i tipi di assistenza nell'attesa che arrivino i primi esami io avevo gli enzimi cardiaci al 1500 il ph del sangue a 7 quindi avevo dei valori di un soggetto gravissimo in condizioni gravissime dopo qualche ora sono stato trasferito in terapia intensiva dove sono rimasto lì sei giorni in terapia intensiva sempre causa covid mi è venuta la crisi cardiaca mi è venuta la neocardite mi sono venute le crisi glicemiche avevo glicemie che spaziavano da 800 quindi dal coma diabetico a iperglicemie sino a 35 quindi diciamo me le sono fatte praticamente tutte da qui sono senti ma proprio in quelle cosa vedevi lì dentro insomma qual è l'ambiente perché chiaramente noi che stiamo io tanta gente non crede proprio a quali sono le situazioni che che si vedono entrando in emergenza all'interno di un ospedale covid dunque roberto io ho fatto un post su facebook che poi un poco mi è un po scoppiata la bomba nelle mani ma il mio era un posto quando sono uscito quel giorno sabato scorso intanto era un modo per ringraziare i medici per quello che fanno e per quello i medici paramedici gli assistenti operatori sanitari che di questo poi ne parlerò insieme fra un po' e quello che si vede in dentro gli ospedali già dal pronto soccorso sino alla terapia intensiva sino ai reparti quello che ho detto i miei amici quello che vedete voi al telegiornale sono dei meravigliosi cartoni animati voi non ne avete idea di quello che si vede purtroppo nelle sale negli ospini nelle corsie nelle terapie intensive io purtroppo un'esperienza nella mia vita tristemente non dimenticherò mai io ho visto andare via perdere morire due persone nella mia stanza tu vivi col terrore che il prossimo puoi essere anche tu in tutto questo sei completamente solo perché non hai contatti con l'esterno non hai contatti con la famiglia la mia unica fortuna è stata il mio cellulare che era un modo per poter comunicare con con la mia famiglia e dare notizie per il resto i medici sono meravigliosi perché comunque ti chiamano chiamano la famiglia dando notizie una volta al giorno chiamano però è chiaro che sempre è una cosa così tu sei in queste terapie intensive io ho visto di tutto dalla morte sul vero senso della parola medici che facevano gli infermieri infermieri che facevano i medici anestesisti che non non lavano mai nemmeno un attimo o una frase bellissima di un anestesista che ha fatto una tragoteomia velocissima per un paziente che se ne stava andando l'ha fatta tipo pit stop di formula uno per intenderci così e se ne è andato dicendo un anestesista barcolla ma non molla e poi vedi vedi la sofferenza vedi la paura vedi vedi cosa e roberto che purtroppo nella mia vita in 48 anni credo che non per fortuna ne avevo mai visto e sicuramente non vedrò mai ecco tu dario sei sei uscito da pochissimi giorni cioè sabato scorso sei uscito io sono uscito sabato sera perché i medici hanno preferito continuare a farmi fare la terapia a casa io ancora ho la polmonite io ancora ho la miocardite io sono ancora ovviamente positivo infatti sono in isolamento solitario a casa però per fortuna riesco a fare la terapia continua a fare la terapia qui a casa da solo e sono per fortuna seguito da dai miei familiari dei miei amori che mi portano la spesa la lasciano fuori la porta io non posso avere non deve avere contatti con con nessuno la mia immondizia sono rifiuti speciali quindi verranno a ritirarli come rifiuti speciali tipo ospedalieri e in questo momento sono comunque ancora un soggetto senti il momento il momento peggiore il momento che hai vissuto che il momento in cui ho avuto paura di non vedere più la mia di morire il momento in cui ho avuto veramente paura di morire è stato all'inizio quando sono arrivato nella zona grigia con la glicemia 800 e lì ho capito che stavo veramente male perché non ero oltretutto non ero nemmeno lucido e poi quando una sera l'indomani sera ho avuto la crisi cardiaca e mi sono ritrovato i due cardiologi e i due diabetologi e le due diabetologhe che combattevano tra virgolette fra di loro perché i diabetologi dicevano ai cardiologi di fare stare calmo il mio cuore che era completamente in sofferenza e i cardiologi che dicevano ai diabetologi di fare salire la glicemia perché era troppo troppo bassa e lì comunque stavo veramente male perché non respiravo perché ho avuto dolore al cuore insomma lì ho avuto veramente paura tu hai avuto naturalmente in passato quali altre problematiche io sono diabetico ma sono assolutamente compensato il problema non è stato il diabete il problema assolutamente il mio diabete un diabete sì di tipo 1 ma regolarmente assolutamente compensato senza nessun tipo di problemi o di conseguenze quindi diciamo il problema è che il covid prende tutti in ospedale con me questa è una cosa che tengo a dire vogliamo ricordare quanti anni hai io ne ho io ne ho 48 48 io mi sbagliavo di qua un anno mi ricordavo 47 quindi 48 anni pensate un po' quanto Roberto considera che ripeto sino a sabato mattina mi sono fatto quasi dieci chilometri corso e devo dirti anche a un buon passo per un podista quello che dico io vedete che in ospedale non ci sono soltanto gente anziana o gente malata con me c'erano dei ragazzi c'erano delle ragazze nel reparto c'erano due bambini ed erano tutti sanissimi è chiaro che c'è un alto numero di gente magari anche più anziane chiaro questo sì però vi posso assicurare che piglia tutti quindi dario questo questa tua testimonianza deve essere utile deve fare servizio pubblico e quindi mi aspetto che chiudiamo questo questa tua gentilissima testimonianza perché no serve naturalmente per far capire magari a qualcuno che il covid c'è che il covid colpisce e che il covid è veramente una bestia infernale quindi quali sono le tue raccomandazioni il covid c'è esiste colpisce tutti prende tutti io faccio l'esempio guardate che la mia compagna è negativa e io sono positivo vale a dire come si fa a spiegare una cosa di questo genere io nella stessa casa io positivo lei negativa quindi è una una bestia talmente strana talmente brutta talmente particolare dove bisogna dove bisogna stare attentissimi quindi usare tutti i tipi di precauzioni mascherine disinfettanti distanziamento sociale per non finire lì dove stiamo vedendo grazie grazie dario veramente della tua testimonianza permetti mi ringraziare ancora la dottoressa fleres e il prof il dottore provenzano che mi hanno veramente sono stati molto umani così come tutto l'ospedale di partinico e possiamo e possiamo sottolineare come tutti i medici infermieri gli operatori sanitari tutti tutti assolutamente grazie veramente un abbraccio affettosissimo tu lo sai grazie a voi ciao grazie a tutti voi arrivederci